Allora, buon lunedì anche questa volta, oggi cerchiamo di occuparci di due o tre temi in chiusura della tematica sui grafi, ma soprattutto anche su come trattare dal punto di vista della lettura del database, nuovamente dei grafi che abbiano una struttura un pochino più complessa, come quella che avete già cominciato a vedere nel laboratorio della settimana scorsa e ancora di più sul laboratorio di mercoledì prossimo, che tra l'altro non è ancora pubblicato, ma lo pubblico oggi pomeriggio, scusate per il ritardo. Completiamo con un argomento di tipo algoritmico e poi invece andiamo più alla parte di programmazione, così mentre ci svegliamo trattiamo l'argomento algoritmico che ha a che fare con i cicli nel grafo, quindi in qualche modo noi stiamo facendo progressione, cioè da un grafo fatto di nodi e vertici e quindi abbiamo imparato a trovare i vicini, gli adiacenti di un determinato vertice, poi abbiamo trovato i percorsi o i nodi adiacenti in modo transitivo, quindi tutti i nodi raggiungibili e eventualmente i percorsi per raggiungerli, l'altra volta scorsa invece abbiamo trovato tra tutti i modi per raggiungere un determinato vertice qual è quello migliore, quindi quello più breve, adesso aggiungiamo un vincolo in più, quello di riuscire a fare un giro completo del grafo, quindi mentre un cammino l'avevamo definito come un insieme di vertici, consecutivi quindi adiacenti, con un determinato vertice di partenza, con un determinato vertice di arrivo, dove quando parlavamo di cammini mi interessavano semplicemente il fatto che esistesse un cammino e poi magari questo avesse lunghezza minima, devo dire che dei nodi intermedi, di quali i nodi intermedi venivano toccati non mi interessava, sì certo ci dovevo passare, però l'obiettivo era arrivare al punto di arrivo, magari con la lunghezza minima, mentre invece a volte c'è la necessità di riuscire a coinvolgere, toccare tutti i nodi intermedi, quindi quando si parla di cicli, si parla di un cammino, vedete che c'è sempre la parola cammino qua dentro, path, che in generale in un ciclo, un ciclo è un cammino chiuso, questa è una definizione molto semplice, nel senso che un ciclo è un cammino in cui il vertice di arrivo è uguale al vertice di partenza, quindi parto da un vertice, mi faccio un giro e ritorno al punto di partenza. Se ci pensate a molti problemi di logistica e trasporti, questo è ciò che ci interessa, nel senso che io posso avere i mezzi o le persone che si spostano, ma a fine giornata o a fine mese o prima o poi devi tornare al punto di partenza, perché non puoi continuamente trovarti i mezzi sparsi in giro, perché faceva comodo consegnare un oggetto in un certo luogo, ma poi alla fine devi tenere conto anche del fatto che hai un viaggio di ritorno. Questo è semplice, in qualunque cammino che abbia il punto di partenza, qual è il punto d'arrivo? Ma noi magari vogliamo aggiungere un vincolo in più, quello che nel compiere il ciclo, quindi nel partire da un punto, fare un cammino che tocchi dei vertici e tornare al punto di partenza, ci chiediamo se possiamo toccare tutti i vertici del grafo e possibilmente toccare tutti una sola volta. Quindi immaginate, poi c'è una definizione teorica, poi il problema esemplificativo di questo tipo di algoritmo è quello del commesso viaggiatore, tu sei in parte della tua sede, oggi devi visitare 10 clienti e tornare in sede e questi 10 clienti devi visitare tutti una volta sola, non vai due volte allo stesso e non ne puoi saltare uno e ti chiedi qual è il percorso migliore, minimo, che ti permette di visitare tutti una sola volta e tornare al punto di partenza. Quindi un grafo in cui scelgo un punto di partenza e devo toccare tutti i vertici, qui ci sono degli esempi di grafi completi di 4, 5, 6 vertici in cui è disegnato un ciclo miltoniano, ma chiaramente lo possiamo immaginare su qualunque grafo in cui io riesco a toccare comunque tutti i vertici. Se vogliamo esiste una forma debole di ciclo miltoniano che è semplicemente un cammino miltoniano, quindi lo chiamo cammino, non lo chiamo ciclo, se rimuovo il vincolo di tornare al punto di partenza. A volte potrebbe non essere necessario di tornare al punto di partenza quando, se vogliamo, un mezzo a perdere, pensate, adesso non è così facilmente modellabile come un grafo, ma no, quando lanci una sonda nello spazio, questa qui deve visitare un certo numero di pianeti, fotografarli, misurarli e poi però a perdere, non devi pensare a un percorso di ritorno. Oppure la distribuzione di, non so, dovete distribuire dei volantini, di far derivare a qualcuno, poi una volta che è arrivato al fondo non c'è un mezzo che deve tornare indietro a volte. Cosa di questo genere. Quindi è un pochino più semplice nel senso che il cammino può essere iniziare in un punto, terminare in un punto diverso e non necessariamente, potrebbe non esserci l'arco che collega l'ultimo punto al primo, quindi è come se avessi un problema con un livello di complessità in meno. E questo è un tipo di problema. L'altro tipo di problema che coinvolge i cicli invece ha a che vedere gli archi. Cioè nel ciclo Hamiltoniano il signor Hamilton era preoccupato di toccare tutti i vertici. Nel ciclo Luriano il signore Eulero, poi in realtà non era Eulero, ma si sono ricondotti degli studi che aveva fatto lui, e invece si preoccupa di toccare tutti gli archi di un grafo. Quindi essere sicuro di toccare, di attraversare ogni arco del grafo in un cammino, chiaramente questo cammino di solito non sarà semplice, cioè è un cammino che usa un determinato vertice più volte. Immaginate che io abbia un nodo con quattro archi incidenti, entro da uno, esco dall'altro, poi per usare gli altri due archi dovrò rientrare nello stesso nodo e riuscire per una stessa diversa. Quindi sicuramente in un ciclo o cammino, secondo che sia chiuso o no, di tipo Euleriano, se voglio usare tutti gli archi, io devo ammettere di poter visitare i vertici più volte, proprio perché il numero di archi per vertice è maggiore di due e quindi a gioco forza lo stesso vertice lo devo usare più volte se devo poter esaurire la visita di tutti gli archi che incitono. Quindi sarà un cammino o un ciclo non semplice, c'è un cammino semplice, un cammino che non si auto-interseca, invece in questo caso si auto-interseca perché passa più volte lo stesso vertice. L'importante è che passi una sola volta da ogni arco, quindi immaginiamo di dover testare tutti i collegamenti di una rete stradale, verificare che non ci sia ponti crollati o cose simili, vuol dire che ogni tratto di strada deve essere percorso, possibilmente una sola volta per non sprecare il percorso. Quindi è un problema duale, da un lato mi interessa essere sicuro di toccare tutti i vertici, nel caso Hamiltoniano, non mi importano gli archi, di solito ne uso una minima parte di archi, nel caso Hamiltoniano, perché? Perché se ho un grafo di n vertici, un ciclo Hamiltoniano ha lunghezza esattamente n, parto dal primo, arrivo al primo toccandoli tutti e quindi userò esattamente n archi o n-1 se il ciclo è aperto perché non ho quello di chiusura. In un grafo che ha una densità maggiore di 1 su n, quando ho il numero di archi che è maggiore, come sempre, nel numero di vertici, ci sono molti vertici che non sono toccati, cioè uso solo n archi dove n è il numero di vertici, non uso tutti gli archi. Nel caso invece euleriano voglio usare tutti gli archi, quindi la lunghezza del cammino sarà il numero di archi e quindi il numero di vertici e i vertici verranno riusati tante volte quante servono. Allora, partiamo dal problema euleriano perché è più semplice, sembra più complicato perché devi tenere conto degli archi anziché solo dei vertici, quindi un cammino che passa più volte dallo stesso vertice, eccetera, eccetera. Però quello che si scopre andando a studiare è che esiste un teorema molto semplice, devo dire, tutte le volte che lo leggo un po' mi stupisce perché dice ma com'è possibile che sia così, che dice che un grafo contiene un ciclo euleriano, quindi un ciclo completo che tocca tutti gli archi una sola volta, se e solo se tutti i vertici hanno un grado pari. Punto, finisce lì. Condizione necessaria è sufficiente. Che sia necessaria lo capiamo abbastanza, abbastanza. Nel senso che se io per assurdo avessi un vertice con un solo arco incidente e devo costruire un ciclo, supponiamo che parta da quel vertice, allora io uso l'arco per uscire, ma visto che ho usato l'unico arco che aveva non ci potrò rientrare e quindi non riuscirò a chiudere il ciclo se parto di lì. Poi capite che in un ciclo chiuso il punto di partenza è arbitrario, posso scegliere dove voglio. Se avessi un nodo con tre archi, io posso partire da lì, uscire, rientrare, riuscire, ma non ci rientro. O viceversa, se arrivo da fuori, arrivo, entro, esco, poi rientro e sono intrappolato perché non ho più nessun arco per poter uscire. Quindi per poter avere un ciclo che continua, e quindi immaginatevi le macchinine della pista che girano sempre all'infinito lungo quel ciclo, anche magari intersecandoci, è possibile ogni volta che entro in un vertice devo avere una via d'uscita e ogni volta questa via d'uscita, se ci entro più volte in quel vertice, ogni volta questa via d'uscita dovrà essere diversa perché non posso riusare più volte lo stesso arco. Quindi questo ci fa capire la condizione necessaria, se ho un arco con un numero di, con un grado, quindi un numero di archi incidenti dispari, non potrò mai costruire un ciclo completo di tipo euleriano che usi tutti gli archi. Infatti il famoso problema dei ponti di Königsberg che avevamo citato quando abbiamo introdotto il tema dei grafi è di questo tipo, noi abbiamo, anzi è un'istanza particolarmente sfigata di questo problema perché vediamo che tutti i vertici hanno grado dispari, questo è un grado 5, questo è un grado 3, questo è un grado 3, questo è un grado 3, quindi proprio sforzandosi tantissimo non riusciremo mai a costruire un cammino euleriano, un ciclo euleriano su questo grafo, quindi non è possibile attraversare tutti i ponti della città una sola volta e tornare al punto di partenza. Ma se rimuovessi il vincolo che devo tornare al tuo punto di partenza? Potrei fare un cammino euleriano in cui parto da un punto attraverso tutti i ponti, cioè tutti gli archi e poi vabbè mi ritrovo dove mi ritrovo non necessariamente al punto di partenza. In questo caso il teorema si modifica e dice che io posso costruire un cammino, quindi non ciclo, un cammino aperto euleriano se il numero di vertici che hanno grado dispari, cioè non pari, devono avere tutti i gradi pari, tranne al massimo due che possono avere grado dispari e due quali, sono quello di partenza e quello di arrivo. Un vertice che ha grado dispari lo devo usare per forza come vertice di partenza o come vertice di arrivo, perché so già che potendo non chiudere il cammino mi posso permettere di avere un vertice in cui esco e non ci devo rientrare dopo, oppure entro e non ci devo riuscire. Però questo lo posso far solo due volte, perché il cammino ha solo un inizio e una fine, quindi posso giocare solamente due vertici di grado dispari, tutti gli altri devono avere grado pari. Quindi è una condizione semplicissima da verificare, basta contare i gradi dei vertici del nostro grafo, tra l'altro è anche semplice a questo punto vedere che bastava distruggere questo ponte in E, se distrugge questo ponte in E i nodi hanno tutti il grado pari, perché la città ne soffre, però si può risolvere il problema dei ponti. Oppure aggiungere, potrei aggiungere un ponte qua tra questi due e allora potrei creare un cammino, non un ciclo, perché avrei reso di cardinalità 4 il nodo sopra e il nodo sotto, questi due sono ancora dispari, ma li posso usare come punto di partenza e punto di arrivo. Quindi è anche facile andare a capire come si fa eventualmente a rendere euleriano un grafo aggiungendo e togliendo degli archi. Intenzione a togliere perché rischi di averlo poi sconnesso e se è sconnesso il ciclo non lo fai. Queste sono le due definizioni di base, poi vedremo, dicevo, questa è una condizione necessaria e sufficiente, il fatto che sia necessaria intuitivamente lo capiamo, il fatto che sia sufficiente mi lascia sempre un pochino lì, un pochino non troppo convinto, ma è possibile che basti una proprietà locale così semplice, il grado pari o dispari, per implicare una proprietà globale del grafo, che esista un cammino sifatto avanti e indietro lungo magari 200 archi. La parte di sufficienza del teorema intuitivamente non la capisco, ma la vedremo dopo quando vedremo un algoritmo costruttivo che ci permette di costruire questo cammino usando quella proprietà e quindi alla fine siamo obbligati a convincerci perché c'è l'algoritmo che ce lo risolve, quindi non è solo una dimostrazione di esistenza, ma c'è anche dietro una procedura di costruzione, che è quello che ci serve. Questi sono i due problemi di base, dopodiché ovviamente come tutti i problemi di base li troviamo in molte varianti diverse. Tipicamente il problema dei cicli viene posto su grafi non pesati, quindi il problema rimane nel trovare se esiste il ciclo oppure se non esiste, quindi il problema è chiedersi se esiste il ciclo e se esiste trovarne almeno uno oppure in alcuni casi trovarli tutti, ma di solito la complessità per trovarli tutti è troppo elevato. Oppure su grafi pesati di nuovo c'è il problema se il grafo è pesato, se esiste un ciclo ovviamente se c'è cercare di trovare quello migliore, cioè quello di lunghezza minima, di peso minimo. Quindi in un grafo non pesato i cicli hamiltoniani sono tutti uguali se il grafo non è pesato, perché hanno tutti esattamente N vertici e i cicli euleriani sono tutti uguali perché hanno esattamente tutti lo stesso numero di archi, tutti gli archi ovviamente. Nel caso invece di un grafo pesato, immaginiamo che ci sia più cicli hamiltoniani, se gli archi sono pesati, visto che abbiamo detto che è un ciclo hamiltoniano, hamiltoniano è quello che tocca tutti i vertici, non usiamo tutti gli archi, ne usiamo solamente alcuni, allora a seconda di quali archi usiamo e quali non usiamo il peso sarà diverso, il costo sarà diverso. Quindi nel caso soprattutto del ciclo hamiltoniano il problema spesso si pone come trovare il ciclo di minor costo. Ci sono due problemi entrambi difficili, due varianti entrambi difficili dal punto di vista della complessità da risolvere sul problema hamiltoniano. Da un lato puoi avere un grafo, pesato o non pesato, in cui la difficoltà è trovare se esiste il ciclo. Già di questo problema trovare se esiste un ciclo hamiltoniano non sono note soluzioni con complessità polinomiale. Noi ricorsivamente lo sappiamo fare, provi tutte le permutazioni possibili, n fattoriale, ti fai del male sappiamo quanto, teoricamente lo puoi risolvere, il problema è che poi praticamente il tempo di esecuzione è troppo elevato. Però se il grafo non è completo, questo è il primo problema, trovare se esiste un ciclo. Poi se ne esiste uno o più di uno, poi possiamo andare a vedere quanto sono pesati. A volte però il problema di trovare il ciclo minimo si applica su dei grafi che siano grafi completi. Questo capita relativamente spesso. Cioè io devo toccare una certa serie di elementi, però potrei non avere nessun vincolo a priori su quali sono gli elementi successivi a un determinato elemento che ho trovato. Immaginate di dover toccare un viaggio 5 città. Chiaramente non abbiamo una strada diretta che porta dalla città 1 alla 2, dalla 2 alla 3, quindi quando parliamo di passare da Torino a Cuneo, da Cuneo a Milano, poi Genova e poi cosa aggiungiamo ancora? Novara. Tra nessuno di queste 5 esiste un arco diretto, una strada dedicata. Quando diciamo che passiamo da un punto all'altro vuol dire che faremo un percorso più o meno complesso che ha un certo costo, ci mettiamo dentro il tempo, ci mettiamo dentro la benzina, ci mettiamo dentro l'autostrada, etc. In teoria non ho nessun vincolo che mi dice dopo che sono stato a Cuneo non posso scegliere arbitrariamente una delle 4 destinazioni successive. Basta che prendo la strada e vado. Quindi in teoria il grafo dei possibili collegamenti è completo, c'è un grafo con 5 nodi e da ciascun nodo posso andare a tutte le altre 4 città ovviamente, con pesi diversi, ma non è mai vietato, è sempre possibile, ma non ho bisogno di avere l'elicottero per poter fare un collegamento punto a punto, uso dei meccanismi di trasporto a cui dovrò ovviamente dare un costo, più o meno, ma è sempre possibile. Diverso sarebbe se fossi magari su una rete farroviaria, dove le stazioni sono predefinite, le tratte sono predefinite, non posso andare di là se non passo da quella stazione intermedia, quindi le tratte intermedie sono bloccate, ma in un caso di viabilità ordinaria no. Allora questi problemi qui sono, è il problema del navigatore essenzialmente, sono modellati attraverso dei grafi che sono completi, cioè da ogni vertice posso sempre passare ad ogni altro vertice. Quindi il problema di chiedersi se esiste un ciclo Hamiltoniano è banale, in un grafo completo lo posso costruire a occhi chiusi un ciclo Hamiltoniano, prendo un vertice qualsiasi, da quello passo a uno qualsiasi dei suoi vicini, non ancora raggiunti, da quello passo a uno qualsiasi dei suoi vicini e così via, prima o poi l'unico vertice che mi rimane libero è quello di partenza e sono sicuro che c'è l'arco perché il grafo è completo, ci sono tutti gli archi che voglio, anzi ho di sicuro n fattoriale cicli Hamiltoniani, tutti quelli possibili, in realtà sono n fattoriale diviso n perché lo stesso ciclo lo potrei contare partendo da più città diverse e quindi è meglio che lo conti da volta sola, comunque insomma l'ordine di grandezza è sempre quello, è un n meno 1 fattoriale. Quindi in questo tipo di problemi la difficoltà non è trovare se c'è un ciclo, la difficoltà è trovare quale sia quello di costo minimo e capite che dal punto di vista, pur essendo il problema teorico lo stesso, dal punto di vista algoritmico cambia tutto, avere una facilità di generazione dei cicli ma la difficoltà di trovare quello minimo. Viceversa quando il grafo non è completo, anche in un grafo non pesato, la difficoltà può essere quella proprio di trovare il cammino. Adesso se volete divertirvi sui cicli Hamiltoniani, il classico problema che forse avevamo citato ma non risolto parlando della ricorsione è il problema del tour del cavaliere, forse l'avevamo solo citato di sfuggita, immaginate di avere una scacchiera e il cavallo, il pezzo del cavallo degli scacchi, sapete la mossa che fa il cavallo, fa una mossa L, allora immaginate di partire dalla prima casella, o da una casella qualsiasi tanto non cambia, della scacchiera e facendo la mossa del cavallo toccare tutte 64 caselle e tornare al punto di partenza. Quindi in questo caso il vertici del grafo sono rappresentati dalle caselle della scacchiera, gli archi del grafo sono rappresentati dalle possibili mosse del cavallo che avvengono tra una casella e quella successiva, quindi di fatto ogni vertice avrà al massimo 8 adiacenti, un grado massimo pari a 8, perché se sono al centro della scacchiera io ho 8 mosse possibili, se sono vicino ai bordi ovviamente ne avrò un numero inferiore. E questo è il mio grafo fisso, predefinito. Devo partire a un certo punto e chiedermi se e come un cavallo può fare il giro dell'intera scacchiere e tornare al punto di partenza. Quello che si scopre è che per alcune dimensioni, sul cacchiere 8x8 è un problema, però io posso immaginarlo anche su scacchiere più piccole o scacchiere più grandi. Per alcune dimensioni di scacchiere il problema non è risolubile, per altre sì e in ogni caso se provate a implementarlo vi accorgete, con implementazione ricorsiva pura, vi accorgete come al solito della crescita esponenziale del tempo di esecuzione, esponenziale anzi più che esponenziale nel lato della scacchiera. Quindi in quel caso non c'è un cammino migliore di un altro, l'importante è trovarlo, poi tutti se ho trovato il cammino avrà sicuramente lunghezza 64, punto. Ce ne saranno molti diversi ma saranno tutti ai nostri scopi equivalenti, perché in quel caso il grafo non è pesato. Quindi sono due estremi molto diversi dal punto di vista implementativo dello stesso problema. Grafo non completo e di solito non pesato, dove il problema è c'è o non c'è questo cammino, troviamolo, almeno uno. Dall'altra il grafo spesso completo, pesato, dove trovare il cammino non è un problema, ne trovo quanti ne voglio, il problema è trovare quello minimo. Nessuno di questi due problemi, di questi due estremi, essendo entrambi casi particolari di un ciclo miltoniano, nessuno di questi ha una soluzione polinomiale nota. Ok, allora avvenendo gli algoritmi quindi partiamo dagli algoritmi che sono facili da risolvere, o per lo meno che sappiamo risolvere. E l'algoritmo che sappiamo risolvere è quello per il calcolo dei cicli euleriani, quindi quelli che usano tutti gli archi, per il quale tra l'altro confesso che mi è anche più difficile fare degli esempi pratici, che non siano camminare sui ponti, eccetera, perché ha meno utilità pratica. Però l'algoritmo cosa ci dice? Ci dice, guarda, tu hai un grafo, vuoi scoprire se è un grafo euleriano, in realtà lo sai già perché basterebbe contare gli archi, il grado dei vertici, e poi ovviamente devi anche, nel caso in cui sia euleriano, fornirmi un ciclo euleriano. Allora, l'algoritmo procede così, scegli un vertice di partenza a piacere, uno qualunque, poi parti da quel vertice e vai avanti a caso, a piacere diciamo, non a caso, fino a quando non torni a v, quindi parto e vado, vago arbitrariamente, scegliendo, non so, sempre giro destro, oppure sempre giro sinistro, oppure contro la terza via, quello che volete, tiro la monetina e vaghi, vaghi lungo il grafo, ovviamente non attraversando mai degli archi che hai già attraversato prima, quindi sempre ogni volta attraversando archi nuovi. Questa cosa qua dice che prima o poi arrivi a v, cioè quest'ultima frase, finché non ritorni a v, che mi lascia un pochino perplesso, sempre, a livello intuitivo, dice ma se io parto, vado così a caso, chi è che mi dice che torno a v? Me lo dice la proprietà del grafo. Innanzitutto dice che non è possibile che io rimanga bloccato in un vicolo cieco in qualunque vertice che non sia v, perché qualunque vertice che non sia v, ha un numero, per ipotesi, di archi pari, quindi se io ci entro in quel altro vertice v, di sicuro c'è un arco disponibile libero per poter uscire. All'inizio un qualunque arco v che non sia v, ha un numero pari di archi, questi sono tutti non usati, ne ho usati 0, perché non ci sono ancora arrivato. Poi se nel mio vagabondare partendo da v arrivo a quel w, avrò usato uno degli archi per entrare e quindi ne avrò disponibile un numero dispari e quindi il numero dispari vuol dire che è diverso da 0, se è diverso da 0 vuol dire che ce n'è almeno uno per poter uscire e allora da w non mi può intrappolare. Quindi io qualunque vertice, anche se w ci ritorno una seconda volta, se ci sono ritornato una seconda volta, ci hanno già dato una volta prima, ho usato due archi, uno per entrare e uno per uscire, quindi il numero di archi liberi è ancora pari e quindi quando ci ritorno una seconda volta rifaccio lo stesso ragionamento, avrò almeno due archi, uno per entrare e uno per uscire. Quindi io sono sicuro che nessun vertice mi potrà mai intrappolare nel mio vagabondare, l'unico vertice che eventualmente potrebbe intrappolarmi è v, perché è vero che v, il vertice di partenza che avevo scelto arbitrariamente, ha un numero di archi pari anche lui, ma uno l'ho già usato per uscire e quindi quando ci rientro potrei aver usato l'ultimo e quindi non avrei più di liberi per poter riuscire. Vagabondare all'infinito non è possibile perché il mio grafo ha un numero di archi finito, è un numero di vertici finito, quindi ogni volta che faccio un passo passo da un vertice in più, ogni volta che uso un arco non lo riuscirò più, quindi il numero di archi che posso attraversare ogni volta diminuisce sempre, quindi non rischio di entrare in un ciclo infinito perché gli archi faccio in modo di non usarli più di una volta sola. Quindi il fatto che il percorso non può avere lunghezza infinita e il fatto che nessun vertice mi possa intrappolare, messi insieme a questi, implica che prima o poi a V ci ritorno. A me intuitivamente continua a non convincere, ma razionalmente non può che essere così, matematicamente non può che essere così. Ok, sono tornato a V, adesso posso essere fortunato o meno, se sono molto fortunato ho vagabondato a caso, sono tornato dal punto di partenza, quindi ho costruito un ciclo e casualmente guarda caso ho già toccato tutti i vertici, tutti gli archi, ho già dato tutti gli archi, fine, colpo di fortuna, il mio vagabondare mi ha già dato un ciclo euleriano. Vabbè, può darsi, c'è anche gente che vince alla lotteria, se no vorrà dire che nel grafo rimangono ancora dei vertici non visitati. Però andiamo a ragionare su questo grafo, proviamo a immaginare il grafo di partenza a cui sottraiamo in qualche modo mentalmente gli archi che abbiamo già usato, cioè quelli che abbiamo già usato non li vediamo più. Gli archi rimanenti formano ancora un grafo euleriano, perché io per ogni vertice ho tolto il numero di archi sempre pari, o nessuno, o due, o nessuno se non ho toccato il vertice, perché può darsi che torni a V senza toccare altri vertici, non è neanche detto che il vertice li tocchi tutti, quindi o zero, o due, o quattro, anche il vertice V, da cui avevo usato, inizialmente era sparigliato, era dispari, che avevo usato un arco solo, ma poi ci sono tornato e quindi ho usato il secondo. Quindi il grafo rimanente, se pensiamo di rimuovere gli archi del primo ciclo che abbiamo trovato partendo da V, è ancora euleriano, cioè ancora tutti i gradi pari dei vertici. E quindi posso ripetere lo stesso lavoro, come prima, partendo questa volta non più da un vertice a caso, ma da uno dei vertici del ciclo precedente. Cioè nel ciclo precedente che ho fatto prima, deve esserci di sicuro almeno un vertice che ha due archi liberi, almeno due archi liberi, per poter uscire e ripartire. Allora riparto. Se non trovassi nessun vertice che ha almeno un arco libero per uscire, che vuol dire che ne ha due, uno per uscire e uno per entrare, perché è euleriano, vorrebbe dire che o ho già fatto il ciclo completo, quindi ho già usato tutti gli archi, oppure ho un pezzo di grafo che non è raggiungibile dal primo. Perché mi accorgo, ho dato, guarda, ho visitato 20 vertici su 25, però tra i 20 che ho visitato ho già usato tutti gli archi, vuol dire che gli altri 5 non sono collegati, non hanno neanche un arco con quelli precedenti. Allora in quel caso, essendo il grafo non connesso, il ciclo non può essere mai costruito in modo completo. quindi abbiamo un ciclo chiuso e se il grafo contiene un ciclo euleriano, da quel ciclo chiuso è possibile partire a farlo in uno secondo e così via, lo ripeto fino a quando non ho archi disponibili. Quindi scelgo un altro arco che potrebbe non essere V, ma uno qualunque che appartenga al ciclo e poi ripeto. Quindi scelgo un altro cammino da un altro V, purché appartenga al cammino precedente e abbia almeno degli archi adiacenti liberi non usati e poi continuo. E ritornerò, mi fermerò quando ritornano di nuovo a quel vertice lì, lì vado a vedere se si vengono ancora i vertici degli archi non visitati, se sì ne scelgo uno, riparto e vado avanti così. Quando mi fermo vuol dire che o ho dimostrato che il grafo non è connesso, non è euleriano, oppure ho trovato il ciclo euleriano. Voi mi dite, ma sì, ma in realtà non hai trovato un ciclo, ne hai trovati tanti. Ma perché ho fatto il primo, arrivo qua e poi ne ho fatto un altro, agganciandolo in qualche punto. Però in realtà io lo posso rileggere dicendo parto da lì, quando arrivo al punto in cui si aggancia, anziché continuare su quello vecchio faccio tutto il giro vecchio e poi continuo l'ultimo pezzo, adesso lo vediamo. Cioè li devo in qualche modo questi vari cicli collegare, incollare tra di loro. Vediamolo subito con un esempio. Allora, questo qua è l'algoritmo. Vediamo come si applica. Questo è un grafo di esempio in cui qualcuno è partito a dire, scegliamo partendo dal vertice E. Scegliamo di partire così, arbitrariamente da E. È partito, ha fatto E, e allora innanzitutto quanti archi ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uscenti da E, incidenti su E, ha scelto G. G aveva due archi solo, uno l'ho usato per entrare, l'altro gioco forza, l'uso per uscire, vado in H. Poi una volta che sono in H ho ancora cinque archi tra cui scegliere, ho scelto quello che va in J, J è solo due archi, quindi mi riporta in E. E qui mi fermo. Quindi ho fatto il primo ciclo. Poi scelgo su questo primo ciclo uno qualunque dei vertici che abbia ancora degli archi liberi. Allora potrei scegliere E, potrei scegliere H. Basta, perché G e E hanno dato tutto ciò che potevano dare. Allora in questo esempio lui sceglie H e da H fa un percorso che è H, D, C e poi torna in H. Di nuovo così a caso, non c'è nessuna regola con cui segui questo percorso piuttosto che un altro, avrebbe potuto fare D, B, A, C, insomma. L'importante è che prima poi si ritrova in H, quando si ritrova in H si ferma. Allora adesso cosa abbiamo? Avviamo due cammini diversi, E, G, H, J, E che inizia e finisce in E e un altro cammino che è H, in che ordine ha fatto D, H, D, C, H che inizia e finisce in H. Questi due li vogliamo fondere in un cammino unico, ma semplicemente il punto di fusione è H. Poiché abbiamo scelto H come uno dei vertici che appartenessero al cammino precedente, non abbiamo scelto a caso H, a caso ma purché fosse sul cammino. Allora vuol dire che se io vado a vedere nel cammino a un certo punto trovo H. Allora basta che io prenda il secondo cammino H, D, C, H e lo vada a iniettare dove prima c'era l'H, quindi prendo il cammino vecchio, trovo l'H, lo spezzo in due, lo stiracchio e lì dentro ci infilo il cammino nuovo. Quindi ciò che ottengo è un cammino nuovo che è fatto E, G, poi al posto del vecchio H, ci metto tutto il cammino nuovo, H, D, C, H e poi continuo J, E, J, E. Capito cosa ho fatto? Prima avevo un cammino che iniziava in E e finiva in E, un altro che iniziava in H e finiva in H e li ho fusi insieme e quindi faccio E, G, H, poi anziché continuare verso J mi faccio tutto il giro che parte da H, H, D, C, H e poi finisco il giro iniziale J e E. Anziché avere due cammini così, io li aggancio in modo diverso i terminali e quindi faccio un anello più ampio. Avevo due anelli, li apro in un attimo, scambio le posizioni e ho ottenuto un anello unico più grande, la base di molti giochi di prestigio. Questo è un gioco di prestigio matematico, ma alla fine funziona. E qui, da qui, continuo. A questo punto, su questo cammino nuovo, che è questo, non mi importa più come l'ho ottenuto. Tra l'altro, vedete, H compare più volte, non è un problema. L'importante è che gli archi compaiono una sola volta, i vertici possono ripetersi. Ne trovo un altro, lui sceglie di partire da D, che ha costruito questo esempio e fa un D, A, D, scusate, B, A, C, E, D. Ovviamente la C non può tornare a D perché quest'arco è già stato usato. Allora, una volta che è in C, è obbligato ad andare in E, una volta che in E potrebbe andare verso I o verso D, in questo caso va verso D. E si ferma qua e di nuovo applichiamo lo stesso metodo. Ho un cammino che parte e torna in D dove lo vado a infilare, iniettare al posto di questa D qua. Quindi il nuovo cammino sarà E, G, H, D, B, A, C, E, D e poi continuo C, H, J, E. E vado avanti così, questo è ciò che ho ottenuto, vado a prendere ancora un arco e qui ho poca scelta perché ho prendo E, ho prendo H, sono gli unici vertici che hanno ancora degli archi liberi, lui qua ha scelto H, H, F, E, I e poi torno in H. E quindi quest'ultimo pezzo H, F, I, H lo inietta dove nell'H o questa o quell'altra uguale, da qualche parte di sicuro c'è, perché l'ho scelto sul ciclo. Lui l'ha iniziato sulla prima e questo è il cammino complessivo. Nel grafo non si vede il cammino disegnato, vedo solamente che ho usato tutti gli archi, ma nella sequenza dei vertici riesco a vedere qual è il cammino che è stato fatto. Quindi questo qua è un metodo costruttivo che alla fine mi dà il cammino euleriano ed è anche la dimostrazione del teorema, della parte di sufficienza del teorema, perché noi siamo riusciti non solo a dimostrare che esiste, ma anche a costruire un ciclo euleriano usando solamente l'ipotesi che il grafo fosse connesso, o se no abbiamo trovato un ciclo solo sulla prima componente connessa e che ogni vertice avesse un grado pari al meno 2, che è quello, il grafo pari al meno 2, scusate, il grafo pari, pari, multiplo di 2, è quello che mi ha permesso di dire all'inizio, il cammino di sicuro torna in V e non è possibile rimanere intrappolati in qualunque altro posto che non sia V. Allora grazie a quello siamo riusciti a costruire tutto il resto, iterando, poi il resto è semplicemente un giochino di ripetere e poi incollare tra le loro soluzioni, ma incollandole sapendo che uno degli archi esiste, che uno dei vertici è un possibile candidato per ripartire un nuovo cammino. Quindi questo è un algoritmo tra l'altro che è implementato dentro il nostro jgraph-t, se ci dovesse servire, lo trovate con un nome strano, perdone, è qua, strano è il nome di chi l'ha inventato, poverino, è strano per noi, ma lui si chiamava così, Aiser H, eccolo qua, Aersolder Eulerian Cycle, questa classe in jgraph-t, classica classe, vedete che dentro c'è un package che si chiama alg.cycle, dentro questo algoritmo.cycle ci sono diverse classi che lavorano sulla costruzione di cicli all'interno del grafo, vabbè questa è una classe come tante che ha un costruttore e poi mi restituisce un cammino sul grafo chiamando il metodo get Eulerian, ne calcola uno, uno qualsiasi, questo è un grafo, credo che sia dichiarato come grafo, come graf in generale o come Anderet, graf, però non tiene conto, accetta qualunque grafo, ma in realtà non tiene conto del peso dei vertici, ma in ogni caso gli archi li usa tutti, quindi anche avesse un grafo pesato, alla fine il peso del cammino Euleriano è uguale, qualunque sia il mio cammino Euleriano, visto che la somma di pesi è uguale alla somma di pesi di tutti gli archi, è sempre una costante, quindi è indifferente il peso degli archi, non è possibile minimizzare, trovare un cammino Euleriano più corto o più lungo, non è una domanda che è mal posta, il numero di archi è esattamente, la lunghezza del cammino è esattamente il numero di archi e quindi il peso è sempre esattamente la somma di tutti i pesi di tutti gli archi, quindi mi restituisce uno a caso perché tanto uno vale l'altro. Quello che volevo solamente leggere insieme a voi sulla documentazione, dice che l'algoritmo funziona con grafi sia orientati che non orientati, questi grafi possono anche contenere i cicli e o degli archi multipli, lui è di bocca buona, fa tutto, la cosa importante è che il tempo di esecuzione è lineare, cioè o del numero di archi, chiaramente di archi non di vertici perché quella è la dimensione del risultato che deve creare, quindi non può metterci meno tempo di quanto sia proporzionale uno per ogni arco che genera. Quindi questo è un algoritmo lineare che risolve il problema degli cicli euleriani. Tra l'altro questo algoritmo è vecchio di 1873-150 anni abbondanti. Per quanto riguarda invece il ciclo hamiltoniano, quello che nella formulazione è sempre più semplice, tocco tutti i vertici, in realtà è quello che si è dimostrato molto più duro da risolvere, al punto che ad oggi non esiste nessuna soluzione nota esatta polinomiale. Come dicevamo, l'esempio classico di applicazione dei cicli hamiltoniani è quello del problema che viene chiamato del commesso viaggiatore, cioè al brevi è in TSP, Traveling Serving Problem, in cui si parte da un grafo e si deve trovare un ciclo che tocchi tutti i vertici e che abbia lunghezza minima. Allora a occhio questo sembra, però sapete che dall'occhio non dobbiamo fidarci più di tanto, però ci vuole un algoritmo che riesca a trovare un cammino che tocchi tutti i punti, torni nel punto di partenza e la cui lunghezza complessiva sia minima. In questo esempio qua che ci riassume visivamente il problema del commesso viaggiatore, vedete che ho disegnato solamente i vertici, non gli archi, perché in questo caso presuppongo che il grafo sia completo, quindi immaginate che gli archi ci siano, da questo dove posso andare? Posso andare in qualunque altro vertice, non ho problemi, chiaramente avrò dei costi diversi, delle lunghezze diverse. Come si fa a risolvere? In modo ricorsivo, uno vuole la soluzione esatta, imposta un algoritmo ricorsivo in cui parto dalla città di partenza, al primo livello scelgo quale città visitare per prima, provandole tutte, magari provo dalla più vicina, inizio dalla più vicina, ma tanto le devo provare tutte, quindi non è che cambi un granché, al secondo livello scelgo quale città visitare come seconda e così via. Se il grafo non è completo, può darsi che io nella ricorsione a un certo punto trovi un vicolo cieco, arrivo a un vertice in cui non posso più andare avanti, non ci sono più ulteriori vertici che non abbia ancora visitato e mi fermo. Immaginate il cavallo che si sposta sulla scacchiera, a un certo punto arrivo in una casella in cui da un lato c'è il bordo della scacchiera, dall'altro c'è una casella già visitata e quindi non ci posso andare, quindi quella mossa non va bene, devo tornare indietro nella ricorsione a provare altre strade. Se invece riesco ad arrivare al fondo, mi devo salvare la lunghezza del percorso che ho usato per arrivare fino in fondo, la salvo da parte e poi continuo comunque la ricorsione nella speranza di trovare un altro percorso per vie completamente diverse che abbia un peso ancora minore. Un classico problema di permutazione questo di nuovo, come era il problema del quadrato magico, problemi in cui ho un numero di elementi fissi, nel quadrato magico ho gli anagrammi, ho un numero di elementi fissi, ciò che mi chiedo è qual è l'ordine migliore in cui disporli, l'ordine migliore ovviamente che rispetta un certo criterio. Nel caso degli anagrammi non c'è un ordine migliore, volevamo generarli tutti, nel caso del quadrato magico l'ordine era quello che rendesse la somma delle righe delle colonne costante, qua l'ordine è quello che minimizza una certa funzione di costo. Quindi stiamo andando sempre più sul complicato, da una parte mi basta generarli tutti, dall'altra mi pare di generare tutti quelli che rispettano un certo vincolo e poi basta, una volta che ne trovo uno di quadrato magico non mi interessa andare a cercare tutti gli altri, sono uguali, sono tutte soluzioni ugualmente valide, nel caso del TSP invece no, una volta che ho trovato una soluzione c'è un ciclo completo, quella è una soluzione ma non è quella ottima e quindi devo andare a trovarle veramente tutte per trovare, per verificare qualsiasi quella ottima. Nella libreria JGraphT esiste una classe che si chiama Hamilton Uncycle, una classe abbastanza vecchia, nel senso che non è nel Package Cycle, nel Package Cycle vedete che ci sono una certa serie di classi, non so perché non me ne faccio vedere a destra, ecco qua, ci sono un certo numero di classi ma non c'è che di fatto ad esempio servono per generare tutti i cicli di un determinato grafo, anche non completi, ma non ci servono, non le trattiamo. Mentre questa classe Hamilton Uncycle non c'è, perché questo Package Cycle è stato aggiunto di recente, nella versioni più recenti di JGraphT dove hanno rivisto un pochino, c'erano varie classi che implementavano vari algoritmi, li hanno un po' uniformati tutti come interfaccia, infatti li ha fatti derivare dalla stessa interfaccia, quindi li hanno un pochino riorganizzati, mentre invece quello del ciclo Miltoniano l'ho lasciato fuori. Quindi lo trovate direttamente dentro alg, c'è una Milton Uncycle. Però attenzione, parla di trovare il minimum tour a Milton Uncycle ottimale o approssimatamente ottimale. Già ottimale non vuol dire ottimo, non è neanche ottimale ma è approssimativamente ottimale. Cosa vuol dire? Poi dopo lo spiega. Infatti questa classe ha un metodo che non si chiama get Hamiltonian Path, ma get approximate optimal for complete graph. Questo metodo qua, che è un nome lunghissimo, mi calcola un'approssimazione del ciclo Hamiltoniano valida sotto una serie di ipotesi. Cioè usa un algoritmo che funziona solamente in un caso particolare. Il caso particolare è che il grafo sia un grafo completo, quindi ci siano tutti gli archi, e nel caso del grafo completo sappiamo che ha senso posto di problema solamente se il grafo è pesato, perché se fosse un grafo completo non pesato, con tutti i cicli di lunghezza n, finito, vado a casa. Ne metto in ordine alfabetico e sono a posto. Quindi un grafo completo, sottointeso, pesato, in cui però i pesi soddisfino la diseguaglianza triangolare. Si chiama a volte un grafo metrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che presi qualunque tra i vertici del grafo, è completo, quindi li posso prendere proprio qualunque, il peso per collegare, è il contrario, il peso, la distanza che collega x con z è un valore che è sicuramente minore del costo di passare da x a y e poi da y a z. Se la funzione di peso rappresenta una metrica, ad esempio una distanza, un costo di trasporto, cose di questo genere. Costa sempre meno trovare la via diretta piuttosto che fare una tappa in più intermedia. Cosa che nella realtà non è poi sempre vero, perché magari con la via diretta c'è una strada statale che passa per le colline, se invece tu passi da una via intermedia c'è due belle autostrade che ti rendono il tempo di, magari la lunghezza maggiore, ma il tempo di viaggio minore. Quindi non è sempre vero. È vero se io potessi viaggiare in linea retta, su una mappa bidimensionale. Avessi l'elicottero allora è sicuramente vero. Ma in generale dipende dai problemi. Però questo algoritmo funziona solo se questa disuguaglianza, se il grafo è metrico. Quindi se questa disuguaglianza è valida. Adesso qui sto parlando di distanze su una mappa perché è l'esempio più facile da visualizzare. Però in teoria potrebbero essere delle serie di lavorazioni da fare. purché sia possibile compiere in qualunque ordine, cioè il grafo è completo e valga questa disuguaglianza. Allora, tu dici, ah che bello, ho messo un pacco di ipotesi limitative e quindi adesso il problema lo so risolvere. Più o meno, nel senso che l'algoritmo ti dà una soluzione che è garantito che non sarà più lunga del doppio del minimo. Cioè non è che magari non ti dà il minimo ma ti dà magari una soluzione che è il 5% più lunga. No, è il 100% più lunga. Tu, se ti dà questa soluzione di puoi fare il tuo ciclo in 150 chilometri, vuol dire che il vero minimo è un qualunque numero tra 150 e 75. E' meglio che niente, per carità, però già per arrivare a quello ho dovuto mettere una serie di ipotesi molto forte sul fatto che il grafo fosse completo e sul fatto che i pesi non potessero essere dati in modo arbitrario, ma dovessero seguire questa regola. In questo caso l'algoritmo che viene implementato è relativamente semplice, nel senso che basta calcolare un MWST, Minimum Weight Spending Tree sul grafo. Noi non abbiamo parlato di Spending Tree, no, non è un argomento che non abbiamo trattato. Uno Spending Tree è un albero che è come un albero di visita, che copre tutti i vertici, che arriva a tutti i vertici. Minimum Weight è l'albero di visita che ha peso minimo. Esistono algoritmi polinomiali per farlo, così sono abbastanza il duale dei cammini minimi, in qualche modo. Quindi questo si può calcolare, noi non l'abbiamo visto, ripeto, ma se vi servisse mai a calcolarlo ci sono già le classi in JGFT che lo fanno, è abbastanza facile. E' di fatto la generazione di un albero di visita. Quindi immaginiamoci tanto per semplicità il nostro albero di visita in ampiezza. Quello ovviamente non è un ciclo. Però lui dice, guarda, tu puoi prendere l'albero e usi quei percorsi dell'albero di visita come pezzi del tuo ciclo. Per cui hai un percorso di visita, un albero di visita, a un certo punto prendi un primo percorso, quando arrivi fino in fondo, prendi il secondo ramo che scende di vertici non ancora usati e lo ganci sotto semplicemente. A caso. Ovviamente in uno spanning tree tutti i percorsi partono da una radice e quindi ogni volta dovresti partire dalla stessa radice. Nel ciclo non posso ripartire dall'inizio perché quel vertice e la radice l'ho già usato. E prendo i pezzettini, i rami e li incollo uno dopo l'altro. È chiaro che nello spanning tree ho cercato di fare un po' di lavoro per trovare i cammini furbi, minimi. Poi quando prendo un altro pezzo a caso, li aggancio sotto, lì faccio un salto. È come se cercassimo di fare i percorsi ottimizzati sul breve termine e poi a un certo punto quando ho finito questo percorso faccio un salto in un altro punto a caso del grafo. Da lì mi muovo bene, poi quando ho finito lì faccio un salto in un altro punto del grafo, da lì mi muovo bene, eccetera. E questo saltare di qua e di là è ciò che mi dà il fattore 2. Il percorso finale che ottengo può essere lungo anche il doppio del minimo, perché il minimo è questo modo di collegare. Però perlomeno mi dà un percorso. La documentazione cosa ci dice? Ci dice che questo metodo, getApproximateOplyMet, blablabla, forCompleteGraph, ritorna il cammino minimo approssimato, richiede che il grafo sia completo, questo l'abbiamo detto, che valga la diseguerenza triangolare. Vediamo cosa mi dà però. Mi garantisce che il peso totale sia minore o uguale al doppio del total weight, diciamo che chi ha scritto questa documentazione è stato anche un pochino pigro perché dice la soluzione ottima sarebbe NP completa, cioè esponenziale. Quindi questa è un'approssimazione decente che gira in tempo polinomiale. dico che è stato pigro perché polinomiale non mi ha detto cos'è. Cos'è V, V al quadrato, V al cubo, V per E, V per E alla diciottesima? Non c'è scritto nella documentazione della classe. Bisognerebbe andare a vedere, se fossimo interessati, andiamo a vedere dentro il codice quale algoritmo ha usato, se ha usato questo che c'è sulle slide, qual è la sua complessità. Che in realtà in questo caso è pari alla complessità dello spanning tree che è un V per E di solito. Ok, questo è un po' il discorso che possiamo fare sui cicli. Il problema pratico è che nelle applicazioni pratiche il problema più frequente è quello del ciclo hamiltoniano, non quello deodoriano, per il quale non abbiamo delle soluzioni valide, delle soluzioni buone. Quindi ci dobbiamo fidare quasi sempre a soluzioni o approssimate e anche pesantemente approssimate. Voi andate a dire a uno che fa il corriere, dice ma ti trovo io il cammino minimo, che però magari è lungo il doppio di quello che tu potresti fare. Questo qui come minimo fallisce o vi fa correre molto velocemente, molto lontano, perché non è accettabile. E quindi bisognerà trovare altre soluzioni che non siano così analiti, non siano così semplici, per risolvere quel tipo di problematica. Sempre in modo approssimato, perché anche l'altra risposta del tipo io ti calcolo il percorso esatto che dovrai fare domani, però il percorso esatto mi servono due settimane di calcolo per dartelo, ma io devo partire domani, se tu mi dici tra due settimane che domani avresti dovuto fare questo giro, diventa inutile. Quindi c'è tutta una branca, se vogliamo, degli algoritmi che si occupano di algoritmi approssimati che però riescono a girare in tempi di esecuzione ragionevoli, che si accontentano di non dare una soluzione perfetta. Qual è il problema degli algoritmi ricorsivi? È che finché lui non è arrivato alla fine, non hai nessuna soluzione. O se ce l'hai, è di una qualità qualunque, tipicamente sbagliata. Non so se avete visto, qua girando gli algoritmi ricorsivi, all'inizio dell'esecuzione la soluzione minima la aggiorniamo rapidamente, molto frequentemente, perché la prima strada che prendiamo è a caso, prendo il primo nodo, vado sul secondo, ma la mossa 1-2 magari è sbagliatissima. Però prima di cambiare la mossa 1-2 e farla diventare 1-3, nell'algoritmo della ricorsione, dobbiamo farci, analizzarsi ricorsivamente tutto ciò che c'è sotto. Quindi, alla fine un algoritmo ricorsivo esplora tutto lo spazio. Lo esplora però in modo sistematico. Come se uno, per conoscere tutte le aule del Politecnico, prima dovesse conoscere bene, 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 tutte le sedie, tutti i bulloni delle aule I. Poi dopo passa alle altre aule. Prima o poi le vede tutte, ovviamente, però se faccio 100 il tempo che c'è speso, il primo 10% l'ho speso su una parte piccola del problema, non ha visto molto altro. Mentre invece altri algoritmi di tipo più euristico, più approssimato, tra cui tutti gli algoritmi genetici, Simonetti e Dan Nilling, tutta una famiglia che qui non trattiamo di algoritmi approssimati, invece cercano di esplorare zone molto diverse dello spazio delle soluzioni, sperando di trovare degli spunti, diciamo così, per migliorare una soluzione anche molto diversa. Il problema della ricorsione è che se una soluzione è una stringa lunga 10 elementi, i primi 5 saranno fermi sempre, fino a quando non risolvono tutti gli altri 5. Quindi cambiano molto lentamente. Ok, però questo era solo per dire che nel caso in cui dobbiamo realmente risolvere il problema, dobbiamo guardare la tipologia di algoritmi che siano diversi da queste qui. Veloci, polinomiali, rapidi, ma danno una soluzione il doppio, quindi non accettabili, oppure perfetti, precisi, esaustivi, ma mi danno un tempo di esecuzione inaccettabile. Nessuna di queste due è una soluzione accettabile in un contesto reale, e quindi bisogna trovare modi diversi. Quindi non tutto il mondo è la ricorsione, per vostra fortuna. Ok, magari prenderemo il problema dei cicli a livello di esercizi più avanti, ma io adesso vorrei invece già sfruttare inizialmente questo quarto d'ora che ci rimane della prima ora, e poi dopo il resto della seconda ora, sul tema più di programmazione. Che è relativo? L'avete già visto, infatti ci ragioneremo sempre sul problema di metroperzi, ma l'abbiamo già visto in passato, lo vedremo ancora meglio nei prossimi esercizi. ci sono dei casi in cui noi abbiamo imparato, ad esempio nel caso di farmata, nel caso di linea, come classi che abbiamo visto nell'ultimo laboratorio, a rappresentare in Java degli oggetti che corrispondessero alle singole tabelle del database. E ci eravamo dati delle regole relativamente semplici. Io ho aggiornato un pochino questa presentazione per entrare un pochino più nel dettaglio, però le regole che ci eravamo dati erano queste. Cioè se ho la tabella del database, creo delle classi Java, che ho chiamato Java Bing, in cui creo una classe per ogni tabella, e creo una proprietà della classe per ciascuna colonna della tabella. Quindi se qua la tabella era linea, e avevo id linea, nome, velocità, intervallo, colore, io mi aspetto di trovare in Java una classe che si chiama, dentro il model, per esempio è sbagliato, in cui non c'era, fermata, id fermata, nome, coordinate, mi aspetto in Java di trovare una classe fermata che contenga id fermata, nome, coordinate. Quindi creiamo degli oggetti che rappresentino in Java il meglio possibile i contenuti della tabella. Una istanza di oggetto Java uguale una riga della tabella. Poi cerchiamo di fare lo sforzo in più di mappare queste informazioni su dei tipi Java il più possibili adeguati. Ad esempio nel caso della fermata, questo è il problema che aveva il progetto base, che avevate mercoledì scorso, anziché memorizzare le coordinate come due double separati, abbiamo usato un oggetto di tipo latitudine e longitudine che era supportato dalla libreria che vi avevamo proposto e quindi è un pochino più facile anche da utilizzare che due double scorrelate tra di loro. Abbiamo il vantaggio che in Java possiamo definirci i nostri tipi di dati, le nostre classi, mentre nel SQL e no siamo limitati a usare i tipi di dati predefiniti dal linguaggio e quindi è sicuramente più prolisso, a volte ci sono dei dati strutturati che in Java riusciamo a rappresentare meglio. Quindi questo è il principio che adattiamo. Facciamo una proprietà privata per ciascuna colonna, facendo il matching migliore possibile dei tipi di dati in modo da avere in Java un tipo di dato comodo da usare e rappresentativo dei valori che usiamo e siamo a posto. Siamo a posto, poi abbiamo i get, i setter, equals e hashcode costruiti sul Java Bing in modo da replicare esattamente ciò che fa la chiave primaria del database. Quindi se il database ha come chiave primaria ID fermata, io nel mio Bing dovrò avere un hashcode e un equals che lavorano solamente su ID fermata e non su un altro campo. Questo per evitare sorprese, per evitare che da cose che sul database sembrano uguali, nel codice Java non lo siano e poi da lì in poi il numero di bacchi che otteniamo, quello lì sì che diventa infinito. Ma questo se vogliamo l'abbiamo già applicato, questo metodo di Object Relational Mapping, cioè mappare nel mondo a oggetti quelle che sono informazioni relazionali. Quello che è un pochino più difficile, di cui ci occupiamo oggi, in modo un pochino più sistematico, perché qualcosa avete già fatto, però cercando di risolvere, quindi a noi piace sempre prima mettervi nei casini e poi darvi la soluzione, così apprezzate, capite a cosa serve la soluzione, non è una ricetta da applicare e basta, ma è il caso delle relazioni. Allora, le relazioni in SQL sono la colla che tiene insieme il database, tra fermata e linea, nel nostro caso c'è una relazione molti a molti, giusto? Io so che una linea è composta da molte fermate e una fermata ovviamente può essere una fermata condivisa tra più linee, anzi è ancora più complicato perché ogni tratta parte da una stazione e arriva un'altra stazione e così via, quindi in realtà ogni fermata, ogni linea è composta da due fermate, la fermata di partenza e la fermata di arrivo, una serie di connessioni. Allora, un dato di questo genere, se ci pensate, non ha senso mapparlo in Java come abbiamo fatto prima, per la linea va bene, per la fermata va bene, ma questa tabella connessione, avrebbe senso creare in Java una classe con questi quattro interi dentro? E poi cosa me ne faccio di questi interi? Quando io ho poi una lista di fermate e una lista di linea? Cioè, devo riuscire, il fatto che io abbia una classe qua in mezzo è perché a livello di modello entità relazionale, connessioni ho una relazione molti a molti, astratta, una relazione a molti a molti nel SQL si mappa facendo una tabella intermedia, questo abbiamo imparato a base di dati, va bene, è l'unico modo, la tabella intermedia è una tabella che ha tante chiavi esterne, è composta da molte chiavi esterne verso le tabelle che sono collegate e poi a volte può anche avere una chiave primaria di suo, quando non ha una chiave primaria di suo, la chiave primaria non è altro che l'insieme di tutte le chiavi esterne, teoricamente è più bello avere la chiave primaria uguale all'insieme di tutte le chiavi esterne, poi praticamente per ragione di efficienza di solito si aggiunge anche una chiave primaria locale, così il database lavora con una chiave primaria unica e non composta, che rende alcune operazioni più rapide. però questa tabella qui è una tabella che abbiamo aggiunto in fase di progettazione della base di dati, concettualmente non esiste, concettualmente sappiamo che una linea passa da più fermate, da una sequenza di fermate, è il modo di rappresentare, di esprimere una relazione tra la linea e la fermata, che poi, poiché questa relazione è molti a molti, tecnicamente devo aggiungere una tabella, però nel ricostruire il modello oggetti non lo ricostruisco partendo da quella tabella, ma cerco di ricostruirlo dalla relazione che stava a monte. Cosa c'è di sbagliato nel fare un oggetto connessione qua? E' che questi ID interi non mi dicono nulla, quando dicono che l'ID linea, l'ID stazione di partenza è 37, e allora quel 37 dovrei andare a fare una ricerca nella lista di fermate per capire qual è la fermata, il che abbia un ID 37. però capite cosa sto facendo di male, di sbagliato? Che io ho già gli oggetti in memoria e ogni volta che devo ragionare su una connessione mi devo fare una ricerca lineare, una scansione in una lista per andare a trovare qual è l'oggetto. Se vi trovate a fare più volte scansione di una lista, vuol dire che state ragionando a livello troppo basso, state ragionando a livello di numero interno del codice di, anziché dell'oggetto. Cioè a me piacerebbe che la linea, l'oggetto linea in Java, fosse collegato direttamente con l'oggetto fermata, non con una lista di interi in cui ciascun intero deve andare a fare la scansione della lista fermata per capire qual è la fermata. Le chiavi primarie, gli ID, i codici, le matricole, sono tutti artefatti introdotti dal modello relazionale, dai database, che devono avere una chiave primaria e quindi di solito gli si ficca un numero per rendere identificabili in modo univo con le linee. questo numero di solito non ha significato applicativo. È il modo con cui poi il database fa le join, fa l'integrità referenziale, eccetera, eccetera. Ma nel modello oggetti tutto questo non c'è. Vediamolo più caso per caso. Allora, il caso semplice è quello di avere relazioni ah, scusate, fatemi ancora dire una frase. Quindi il problema che ci stiamo cercando di risolvere è come facciamo a mappare in modo efficiente, furbo, comodo in Java situazioni di questo genere. Questa è già un pochino più complicata perché c'è due relazioni qua, però cerchiamo di ragionarlo in generale. Cioè collegare tra di loro oggetti Java che rappresentino relazioni complesse a livello di database. E queste relazioni complesse a livello di database possono coinvolgere anche tabelle intermedie, chiavi esterne, eccetera, eccetera. Ciò che voglio aggiungere è questo lo vogliamo fare perché? Perché magari ci interessa, data una linea, trovare tutte le fermate. di quella linea. Trovarlo facilmente. O magari ci interessa, data una fermata, trovare tutte le linee che passano da quella fermata. Se ci interessa, dobbiamo riuscire a rappresentarlo in un modo comodo all'interno del modello oggetti, del nostro model. Ma magari non ci interessa. Nel nostro algoritmo non abbiamo mai bisogno, non lo so, di sapere, data una linea, quali sono le fermate che contiene. Ma per di no. Perché noi il grafo lo facciamo sulle fermate e ci interessa solamente sapere, data una fermata, quali sono le linee. Non lo so. Dipende dal caso. Allora, visto che la parte di modellazione delle relazioni che stiamo per vedere è pesante, non è banale come modellare classi, devo ragionarci di più, devo aggiungere il codice, chiediamoci sempre se ci serve. Cioè, facciamolo, modelliamo quelle relazioni che ci interessa, in fase di esecuzione dell'algoritmo, poi usare, sfruttare, attraversare. Se non avrò nel codice mai bisogno di passare da linea alla fermata, non mi do la pena di aggiungere per ogni linea l'insieme delle fermate. Non rappresenta e basta. So che c'è, so che il database lo sa, so che se mi serve faccio una query nel database, ma a livello di oggetti non ce l'ho esplicitamente rappresentato. Se invece è una relazione che uso molto spesso nel mio codice, beh, anziché ogni volta fare una query sul database, oppure andarmi a scandire una collection, una ricerca dell'indice, giusto, allora conviene rappresentare la relazione con oggetti e quindi applicare i metodi che stiamo per vedere. Quindi, il warning qua davanti è non facciamolo per tutte, sistematicamente, non è una regola generale, adesso bisogna sempre far così. Ma se ci accorgiamo che ne abbiamo bisogno, questo è il modo di farlo. È un modo di farlo. Allora, vediamo il caso più semplice, poi facciamo pausa, è quello di relazioni con cardinalità a destinazione pari a 1. Quindi, la relazione 1 a 1 oppure n a 1 in cui l'oggetto con cui mi relaziono è 1 solo. Allora, in questo caso, è sufficiente in un oggetto che fa riferimento a un altro, aggiungere un attributo in più che sia il riferimento all'oggetto mappato con le parole mincasino. Vediamo l'esempio. immaginiamo di avere due in un database, una tabella studente e una tabella persona. Allora, la tabella studente avrà la sua matricola e poi avrà degli altri dati ovviamente che qui non ho riportato. Poi, una tabella persona che invece è identificata da codice fiscale e altro, eccetera. Poi abbiamo una relazione che è essenzialmente una relazione 1 a 1 in cui per ogni studente ho una chiave esterna che mi punta all'oggetto persona e non per tutte le persone, per alcune, ho una relazione opzionale che mi dice quella determinata persona a chi corrisponde come studente. Immaginate che la tabella persona può essere una tabella di una grafica generale e poi c'è un sotto insieme di persone che sono anche studenti. Quando sono studenti ovviamente la relazione tra studente e persona è 1 a 1. Quello studente rappresenta una persona e quella persona rappresenta uno studente specifico. Quindi dentro la classe persona ci metto degli attributi che valgono bene per tutti, dentro la classe studente ci metto degli attributi che invece valgono solamente se la persona è anche uno studente. Il fatto che una persona possa anche non essere uno studente fa sì che non mi convenga fondere le due tabelle in una perché avrei un casino di campi che magari non so se devo valorizzare oppure no. Le tengo separate ma poi è una relazione 1 a 1 che le lega. 1 a 1 opzionale nel senso che l'altro studente è obbligatorio e l'altro persona è opzionale. Perché una persona può anche non avere uno studente. Allora a livello di database come lo realizzo? Lo realizzo con due tabelle separate ciascuna con la propria chiave primaria in questo caso queste chiave primarie sono anche scollegate tra di loro una è il codice fiscale una stringa l'altra è la matricola che è un intero e poi per legare i due oggetti nello studente metto la chiave esterna della persona e nella persona posso mettere la chiave esterna dello studente. Cos'è la chiave esterna della persona? Questo campo qua è la chiave esterna della persona a livello di SQL è una stringa che riporta il codice fiscale della persona corrispondente le chiavi esterne sono dei campi il cui valore deve essere uguale al valore della chiave primaria dell'altra tabella qui noi creiamo una tabella una colonna di tipo stringa le chiavo chiave esterna persona e poi dirò al database guarda che questo deve essere esattamente uno dei valori della chiave primaria dell'altra tabella abbiamo un valore stringa che viene ripetuto due volte come chiave primaria della persona e come chiave esterna dello studente e viceversa dall'altro lato in questo caso nella tabella persona posso mettere un campo intero opzionale quindi può anche essere null a livello del database che sarà un numero intero che corrisponde a uno dei valori possibili della chiave primaria della tabella studente cioè matricola vabbè fin qua ci siamo nella progettazione del database è anche possibile che questa chiave primaria studente possiamo anche non rappresentarlo come campo perché tanto quando facciamo le join possiamo fare le join tra codice fiscale e persona e se voglio passare da persona a studente lo posso fare comunque tramite codice fiscale perché gli studenti avevano tutti l'informazione di qual è il codice fiscale della persona a cui fanno riferimento se voglio passare da studente a persona anche quindi per collegare le due tabelle in realtà l'unico campo necessario è questo qua in verde quello in rosso potrebbe essere non necessario perché lo vogliamo aggiungere ma cosa serve se lo aggiungiamo cosa cambia se lo aggiungiamo oppure cosa cambierebbe se non ci fosse questo campo allora se non ci fosse questo campo rosso avremmo il rischio di avere due studenti diversi che fanno riferimento alla stessa persona immaginate non avere questo persona codice fiscale il vostro codice fiscale nome e cognome eccetera poi il studente matricola 1 codice fiscale il mio altro studente matricola 20 codice fiscale di nuovo il mio non è vietato a meno che io non metta un campo unique su questo un indice in più allora in questo caso se non avessi se invece ho questa chiave esterna studente è ovviamente che data una persona lo studente o c'è e se c'è è uno solo perché è quello che c'è scritto lì oppure non c'è non posso averne due quindi in questo caso il fatto di avere le due chiavi esterne incrociate garantisce la relazione uno-uno non può sbarellare né un lato né l'altro è ovvio che a livello di database è un lavoro in più dover mantenere due chiavi esterne incrociate quando faccio le insert eccetera però è il modo per garantire l'univocità in entrambi i lati va bene questo è il livello di database a volte dicevo questa qua è che a pro studente non la mettiamo per comodità sperando di non far casino sul lato studente adesso come lo modelliamo in java il modo più semplice di modellarlo in java è quello di dire io ho il mio bin che rappresenta la tabella studente e tra i vari attributi ci sarà la matricola eccetera eccetera qui avevo questo campo fk persona che a livello di database era una stringa quindi potrebbe essere una cosa del genere ma io posso preferire la rappresentazione di oggetti piuttosto che a chiavi se io facessi questo che ho cancellato qua cioè memorizzare dentro la classe studente il codice fiscale dell'oggetto persona corrispondente ogni volta che dovessi passare da studente all'oggetto persona avrei questo codice fiscale e mi dovrei fare una ricerca nella lista di persone per trovare qual è l'oggetto persona di cui mi interessa il nome il cognome magari o il luogo di nascita allora sarebbe molto più comodo che nell'oggetto studente ci fosse un riferimento diretto non una copia un riferimento diretto all'oggetto persona che comunque ho già dall'altra base ho letto l'elenco di tutte le persone le ho da qualche parte le ho in una lista va bene allora la persona che ha il mio codice fiscale sarà un determinato oggetto nell'oggetto studente metto direttamente un riferimento alla persona lo faccio puntare direttamente dentro la lista non sto creando degli oggetti in più non sto dicendo che dentro l'oggetto studente faccio una new di una nuova persona la devo metterli dentro che contenga dentro lo studente tutti i dati di una persona sto dicendo che siccome persona quella persona ce l'ho già come oggetto è più furbo memorizzare il riferimento all'oggetto che non il valore della chiave primaria di quell'oggetto perché poi chiave primaria ha un senso in SQL e in Java non ce l'ha più poi se mi serve davvero il codice fiscale faccio studente punto persona punto get persona punto get codice fiscale e navigo così la relazione e viceversa dall'altro lato nella classe persona posso mettere un riferimento direttamente all'oggetto studente che possiede quella matricola e non solo il valore intero che corrisponde al numero di matricola questo in termini di definizione della classe questo è il caso semplice razioni o 1 o 1 quindi dato uno studente c'è una persona e quindi mi serve solo il riferimento a quella persona dato una persona o uno studente mi serve il riferimento a uno studente da qui nascono due problemi che affronteremo dopo anche nel caso semplice il primo problema è mi incasino perché se devo fare una query che mi dà tutti gli studenti e in quella query si deve portare dietro anche tutti i dati della persona cioè non mi dà solamente i dati del studente ma in qualche modo devo avere anche tutta la persona non solamente il suo codice fiscale e quindi se ho un database che ha tante relazioni lo studente si deve portare dietro la persona la persona si deve portare dietro la città la città si deve portare dietro la nazione la nazione si deve portare dietro il calendario e allora in una query devo mettere sempre come join 12.000 tabelle come facciamo a fare un pezzo alla volta questo è il primo problema che poi lo vediamo meglio come codice il secondo problema che in realtà è anche un po' soluzione del primo la cui soluzione è anche un po' la soluzione del primo è come faccio a identificare in modo rapido qual è l'oggetto persona che mi serve magari senza andare a fare la scansione delle liste di cui dicevamo prima io vi ho detto sì mi metti il riferimento alla persona bravo ma questo riferimento come lo ottengo? leggendo il database no attenzione non puoi leggere il database perché non puoi fare una new di un nuovo oggetto persona devi usare l'oggetto persona che hai già perché abbiamo detto vogliamo aggiungere un riferimento non un nuovo oggetto e allora come lo trovo quell'oggetto in modo rapido senza fare scansione di liste allora poi ci aggiungeremo una mappa poi il finale della storia è questo però cerchiamo di farlo in modo sistematico ok questo è il caso semplice cercheremo il più possibile di evitare di lavorare con scansioni lineare di liste e rappresentazione esplicita di chiavi esterne o chiavi primarie cerchiamo di lavorare oggetti chiaramente i problemi si complicano quando le cardinalità della relazione non sono più 1 ma diventano n però prima di digerire quest'altro boccone ci facciamo l'intervallo è un'intervallo